Ciao a tutti, sono BriVideogames e oggi continuiamo con The Sims 4 vita universitaria e andiamo avanti. Sta facendo le valigie per trasferirsi altrove, perché? Poiché al momento servo non è scritto all'università, perché si deve scrivere pure a lui all'università. No dai raga, il regolamento prevede che debba trasferirsi altrove per cedere il proprio spazio agli studenti iscritti. Dovrebbe dedicare del tempo a fare le valigie e cercare un nuovo alloggio, se vabbè, adesso devo stare pure lì dietro al robot, nooo. A saperlo che era così neanche lo facevo, cioè. Ma quindi cosa posso fare? Boh, vabbè. Comincio a fare il bagno, no, no, no. Ma ci mancherebbe, scusa, si autodistrugge, non penso sia così scemo. Cioè praticamente adesso sono costretta a iscrivere anche lui, ma io non posso stare dietro a due però. Finito di fare le valigie, così facendo il trasferimento alla residenza universitaria verrà subito. Che succede? Termina l'evento. Ora non nello scenario. E vabbè. E raga, che devo fa'? Se no non la posso mettere, com'è che si fa magari a salvarlo? Boh, non lo so. E facciamo così. Stai per creare un'unità familiare sprovvista di fondi. L'unità familiare non potrà permetterti un nuovo lotto, ma potrebbe unirsi a un'altra famiglia. Vuoi davvero procedere? Sì, vediamo che succede. Secondo me mi fa scegliere dove metterlo. Magari lo regalo a qualcuno, non lo so. Eh, il problema è che non gli ho messo nessun cash, non c'è, non ci ho fatto caso. Ma non gli posso trasferire dei soldi. Non ci ho fatto caso che non gli ho messo alcun cash. Ops. Solo gli trasferisco da loro, dai, dai miei amici. Sì. Cioè, anche se loro non sono i miei amici qua, però, c'è, nell'altra famiglia sono i miei amici. Mettiamolo qui. Vuoi andare a convivere con la famiglia e amici per sempre? Vai a convivere. Vuoi davvero unirti alla famiglia e amici per sempre? Sì, vai. Ok, si è trasferito da loro. Niente, io ritornerei dalla... Travis inizierà a lavorare fra circa un'ora. Vabbè. Ok, io ritornerei dalla mia sim, però. Eccoci qua, abbiamo lasciato un buone mani. Cioè, non è che l'ho lasciato da solo, quindi... Ok. No, più che altro, perché se devo badare anche lui, cioè, buonanotte, davvero. Eh, io ho bisogno di uscire un po' di casi. Unisci a me. Sì, andiamo insieme. Accetta e seleziona il sim con cui... No, va bene, così, ok. Ok, eccoci qua. Allora, chiediamo un tavolo, se no, mangiamo. È vero, poi con l'altra famiglia possiamo portare i figli al ristorante, è vero. Ok. Eh, che bel tavolo ci ha dato. Ok. Ordina per il tavolo, va bene. Allora, cosa possiamo prendere? Ma che ori sono? Non ho visto. Sono le nove del mattino, ecco. Quindi non è che potrei prendere roba strana. Cornetto. Beh, il cornetto ci sta. Cavoli, ho 8 dollari in cornetto. La torta a cioccolato, cioè. Tiramisù, gelato caldo. Cupcake con super bomba al cioccolato, no? Vabbè. Buono. Boh, vabbè. Non so se ho preso il cornetto o vabbè. Vabbè, fa niente. Ok, cacchieremo un po'. Si sta laureando in malvagità. Oddio. Oddio, raga. Con chi mi avevo fatto stretta amicizia. E vabbè. Come mai ti stai laureando in malvagità? Tanto per sapere, eh. Ecco quanto ho ordinato. Buon appetito. Va bene, mangio cornetto. Quindi alla fine ci è arrivato cornetto o non ci è arrivato? Ok, vabbè. Ok, raga. Stiamo nell'altra università. Sto cercando di farmi un po' di amici, insomma. Ok. L'università di... Ah, sta laureando in biologia. E lei? Vediamo un po'. Ok, la mia si è mandata a dormire, siamo state un po' fuori, siamo state all'altra università, abbiamo stretto un po' di amicizie. Ah sì, se non avete notato un nuovo conquilino. Anche perché ho visto che ce ne sono, abbiamo nuovi conquilini, insomma. Che magari quelli che c'erano non ci sono più, perché sicuramente avranno finito l'università. Ci sono nuovi conquilini davvero, cavoli. Fermati. No, mi voglio lamentare con lui del disordine, perché lascia sempre il disordine, cioè che cacchio è. Lascia sempre la spazzatura per terra. Eh, scusa. Mi lasci sempre... Butta sempre la spazzatura per terra, se ne va. Che cacchio. La società segreta locale. Io non so come fare a scoprire questa società segreta locale, però vabbè. Ecco, qualcosa è andato storto come al solito. Ok, Noemi sta andando a fare l'esame. Speriamo bene. No, imbrogliare l'esame non ci pensare proprio più. Ok. Niente ragazzi, io direi di finire qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao. 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 Grazie.